ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale e in questa nuova lezione nel video di oggi andremo a parlare del gioco al volo ci focalizzeremo sempre su tre aspetti ovvero la tattica gli appoggi e lo scaricamento del peso del corpo in avanti ci siamo mai a Allora ragazzi, il primo esercizio che andremo a fare, inerente alla tecnica, andremo a utilizzare un semplice elastico, questo perché ci dà la possibilità di stare compatti davanti con entrambe le braccia ed evitare di andare dietro, che è uno degli errori un po' più comuni, quindi di aprire, esatto, di aprire tanto soprattutto quando la volée sembra un po' più semplice. Quindi andremo a mettere questo elastico, entrambe le mani, ok? E in questo modo non possiamo allargare le braccia e quindi ci troviamo in una posizione molto più compatta e vicino anche al corpo. La distanza da avere dal corpo per quanto riguarda la volée è leggermente un po' più avanti per quanto riguarda i gomiti, ok? Vai! Ok, lo faremo al cesto, ok? Vai! Una di diritto, esatto, e l'altra di rovescio. Brava! Ok, brava! E di rovescio. Ultime due. Perfetto. E via! Ok ragazzi, in quest'altro esercizio andremo a curare gli appoggi e lo faremo grazie a questo elastico che si lega semplicemente alla vita, questo perché andremo a creare un po' più di forza e a scaricare il peso del corpo sempre in avanti. Faremo un esercizio davvero molto semplice su entrambi le diagonali, quindi una volta di diritto e una volta di rovescio aiutandoci con questo elastico. E adesso vi faremo vedere com'è. Vai! Vai! Ok! Brava! Esatto! E avanti! Brava! Brava! Ultime due. Esatto! Ok, adesso nell'ultimo esercizio andremo a trasformarlo al cesto. Quindi ci focalizzeremo su un po' tutti questi aspetti e in particolar modo lo scaricamento del peso del corpo in avanti come l'abbiamo fatto anche con l'elastico. Quindi ci focalizziamo, come abbiamo detto prima, sulla parte di partire leggermente più distanti con i gomiti, cercare di non andare troppo indietro con il braccio destro, accompagnarlo e poi finire anche il finale. E successivamente lo scaricamento del peso del corpo in avanti. Lo faremo sia di diritto che di rovescio. Una e una. Esatto! E ritorna sempre. Brava! Perfetto! Scarica il peso del corpo in avanti. Perfetto! Sempre compatta con le braccia. E via! Vai! Perfetto! Ok ragazzi, anche questo video finisce qui. Fateci sapere sempre nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questi esercizi, se li avete magari già fatti. Comunque accettiamo anche dei consigli su... Nuovi esercizi! Esatto! Esercizi diversi da... sempre per imparare queste cose qua o comunque... Da proporre! Esatto! Fateci soprattutto sapere quanto utilizzate o quanto lo state utilizzando anche voi il gioco al volo. Mi raccomando, noi vi aspettiamo sempre martedì alle ore 21. Ciao! Ciao! Ciao!